Un saluto a tutti e bentornati qui da Mauri sul nostro canale. Quest'oggi sono qua per parlarvi di Mozza. Allora, è uscito appunto questa bundle che stanno sponsorizzando proprio quella della Mozza, tra l'altro a me, essendo io comunque cliente Mozza, mi arriva anche sul telefono le notifiche, e hanno mandato appunto questa notifica di questo bundle che uscirà per PC, ma, cosa grande, per Xbox, cioè quindi si affaccerà sul mondo console. E questo prodotto si tratta dell'R3, è un prodotto che ha come forza Newton metro 3,9, quindi abbastanza bassino, diciamo, come motore, però ovviamente bisogna sempre fare una distinzione tra direct drive e motori a cinghia, perché comunque il direct drive, i 3.9 di un direct drive non sono proprio paragonabili a quello di un cinghia, nonostante questo comunque è basso. Però è ovviamente un prodotto comunque di pregevole fatture, cioè ovviamente la Mozza ha dimostrato, io essendo possessore di R5, posso dirvi che comunque mi sono trovato molto bene, sia per quanto sia le corone, e ne vedete una qua tra l'altro, e per quello che concede ovviamente il prodotto in sé. Ma io non sono qua né per pugilizzare né per, cioè sono qua semplicemente per informarvi di questa cosa. Allora, qui intanto andiamo a vedere esattamente appunto, facciamo una panoramica se vuoi un video che fa vedere questo prodotto, e andiamo a vederlo subito. Allora, qui intanto andiamo a vedere esattamente appunto, facciamo una panoramica, ecco come vedete, come abbiamo visto adesso appunto in introduzione, ecco qui vediamo appunto, qua ci sono tutti i dati tecnici ovviamente del prodotto, come vedete ovviamente, come avete visto, con tutti i pulsanti che sono esattamente riconducibili all'Xbox, e quindi ci sono appunto, quindi è molto interessante questa cosa, soprattutto per i possessori appunto di questa console, che oggi possono provare ad avere un Direct Drive appunto della Mozza, che comunque è senz'altro tanta roba. Per quello che riguarda appunto anche il costo, adesso vediamo un attimo qua, ci dovrebbe essere proprio la questione che comunque non è ancora disponibile, perché il prodotto attualmente non è ancora disponibile, perché dice che sarà disponibile dal quarto trimestre, quindi intorno a ottobre, penso che dovrebbe essere disponibile. Difatti qua, come vedete, c'è proprio il pulsantino avvisami, per avere poi la possibilità appunto, vedete qua, vi dice questo. Qui ovviamente il prezzo si parla di un 399 dollari, quindi IVA esclusa, tutto il pacchettino, diciamo che è un prezzo, poi bisognerà vedere, è tradotto in lire, comunque, scusate, perché sono rimasto un po' indietro, in lire, in euro, bisognerà vedere un po', magari riparleremo di un 400 euro, all'incirca, perché comunque anche se la valutazione è diversa, però ovviamente penso che l'impatto più o meno della cifra sarà quella lì. E quindi, niente, volevo informarvi di questa cosa, sappiate appunto che c'è questa possibilità di avere un mozza, anche per, comunque, anche i possessori PC, che sicuramente per i possessori PC è un po' meno appetibile questa cosa, perché ovviamente a quei prezzi lì, con poco più si porta a casa sicuramente prodotti un pochettino più performanti, ma per un discorso, comunque, anche per chi volesse, comunque, entrare di livello, comunque, spendendo poco, comunque non è male, anzi, ce ne potrebbe essere una buona possibilità, anche perché poi la corona, comunque, anche se uno dovesse poi cambiare il motore, può sempre recuperarla, quindi alla fin fine, sono sempre soldi che non si buttano via. Bene ragazzi, con questo è tutto, io volevo appunto informarvi di ciò, e ci vediamo alla prossima. Ciao da Paoli! Ciao da Paoli!